Allora siamo qui a Grafi in provincia di Momigno, che il 13 luglio 2018 ci sarà questa grande sagra, la sagra dei bucaioli, loro stanno già pronti a cercare funghi, questo ragazzo sta già impastando le mani verce per fare la pasta, gli hanno andato a prendere l'acqua a vaglio, l'acqua la prende a vaglio, perché noi si può dire che la schiacciata di Montagnana qui a Momigno ci fa una sega, per dire, capito? Allora i bucaioli vi si aspetta il 13 luglio a Grafi, numerosi, numerosi, sagra dei bucaioli Bucaioli c'è le paste, o c'è funghi